figo sarebbe stato figo però quello che dici tu ci stanno ancora pensando ma vaffanculo sono un coglione la cosa bene è che mentre muori non puoi fremere non puoi aprire e desolizzare nessuna parte perchè già quando devi in grado di chiudere lo Stark mentre di genere ha paura che dopo ti bugge lo Stark sopra gli occhi non 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 Grazie a tutti.